EA Sports, è in the game Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers Io sono Jonathan ed eccoci qui ragazzi di nuovo in un altro spacchettamento Ne apriremo 20 pacchetti, dico 20 pacchetti Da 25.000 oro rari, cioè quelli lì che ci possono uscire i Tots E i Tots di questa volta sono quelli migliori di tutti Ah non mi esce più qua, non so perché Però va bene, quindi 25.000 speriamo in un Aguero Tots Uno scarso che vale poco In un Messi Tots e in un Cristiano Ronaldo Tots Tutti Tots In sottofondo sentirete sempre Salvatore ogni tanto che interviene Perché è uno stupido E allora ha manie di protagonismo Eccolo qua e quindi vuole esserci anche lui Ma apriamo subito i pacchetti perché sono tanti Sono 20 E partiamo Il primo Che non schifiamo E speriamo bene Speriamo bene Almeno di recuperare qualcosa I vanovi La prima schifezza E vai Ole Schifezza totale Tutto al club Allora quindi gli oggetti sono 12 Tutti oro rari Quindi speriamo bene Vai ti prego Ti prego qualcosa di buono Roberto Baggio Adesso mi esce Baggio Guarda Vai 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 È blu è blu No Eminem Mi è uscito Eminek Eminike Eminike È uno della Nike È un pezzotto Ma porca Miteriaccia Già due pacchetti a vuoto Vai con il terzo Questo lo schifiamo Lo schifiamo Viuste Ma vai Ernanes Però almeno è alto È un nano alto Pabon Mi è uscito Pabon Ma chi è Pabon ragazzi Chi è Pabon Scuritemi nei commenti Se sapete il Pabon Oh fratello cardino Eh Vai con il prossimo Questo non lo schifiamo Oh 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 No Cascinelli Ma almeno In 20 pacchetti Due tot Ci escono Almeno due tot Oh ti è uscito Pure lo stadio Mastella Eh Che me ne faccio Dello stadio Mastella Come che te ne fai Dello stadio Mastella Se l'è proprio stadio Mastella Vai vai Dai dai Un giocatore Dozzo Un dot Un dot Un dot È il Sharawi Che me ne faccio Ce l'ho pure già Ferro Esci di quel Cristo Ferro La porca Miteriaccia Eh vai Uno buono Uno buono Ea Ti prego Ea Ti prego Uno buono Motta Ma che motta È fonte Mi è uscita una motta E una fonte Ma Pasqua è lontana però Perché Pasqua? Motta Ma Colombo è motta Perché la mala voleva dare Pema? È la marca di Panettone Altri quattordici ragazzi Quattordici Ma questo è tot Un giocatore buono Ma perché Arteta? Arteta è cate uscite Ma chi è Arteta? Ma chi è Arteta? Chi è? Arteta Ma vedi un po' 20 pacchetti da 25.000 Sono 500.000 crediti Nell'imbondizia Ma perché guarda Non mi è uscito Un boom Mi è uscito Jonathan È mezza La bill Fammi aprire uno Ti faccio vedere come Vai apri tu Ok Di me vedrete solo le mani Lo schippiamo? Vedi tu Scegli tu Sono schippiamo Ooooo Che ti avevo detto Che uscita un Barbara Fazio Ma chi è Fazio? Ce l'abbiamo pure già È solo un son Eh son La chitarra Brava Fa Calangulu Si chiamava Gini Dai Non dire parolacce È così si chiamava Questo lo schippiamo Kane Ci è asciuto Barabarabarabar Oh Howard Filippo Inzai Che pure c'è uscito Peccato che fa l'allenatore Non gioca più Andiamo con il prossimo Siamo pronti Per questa avventura Questo sarà buono Questo sarà buono Me lo sento Questo è Messi Questo è Messi Ramirez Un giocatore solo Devo uscire Poi due doppie Azzipiliqueta Non ti piace azzipiliqueta Ma che schifo Sembra un balese Azzipiliqueta Ma almeno Mi devi dare i normali Dammi almeno uno Che vale 100.000 Non chiedo Chissà che cosa Non chiedo Chissà che cosa Almeno Dammi uno Che vale 100.000 Cioè stiamo Prendo tutti Questi pacchetti Ea Almeno Ripagami Ripagami Che cavolo Ripagami Perché Mi esce addirittura Alla Lucca dal bar Ma che cacchio è Il che babbaro Mi è uscito Ziu Babaro Posso dire su Ziu Ah oh 4000 e 1000 In un solo Ma perché Ma che cacchio Di pacchetto Era questo Perché non sono usciti Tutti rari Si è buggato Ma vedi un po' Meno male Che almeno Ci ha ridato Un po' Di soldi Boh Non so perché Boh Ma Si bugga pure C'è Tello Il tortello Ma almeno Mi esce The graph Wow Proprio fra dei pupetti Un Ibrahimovic Un Otto pacchetti Un Ibrahimovic Un Robben No Qua che si sta buttito Fa schifo Lo so già 87 Lam 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 Quanto vale Vediamo Zero Guarda Perché Le statistiche Fanno schifo 8000 Sì Massimo 8000 Massimo Lam 7 bustine La settima Almeno Un solo Tot Se ci esce Uno Uno Dico Che sia uno Porca miseria Un altro tortello Cioè Quante probabilità avevo In due bustine Consecutive Di prendere Due Tello Quante probabilità Avevo Pensa se si chiamava K Tello Che Soltro Struvido Che io sono triste Che non mi esce Un cacchio di giocatore Buono Oh Asceva qua 99 Che bucatello Schippiamo Samba E' alba Samba E' alba Questo però c'è 92 Di velocità Giada Guarda qua Ma è più ragazzi Non farò mai più Un pacchetto Uno spacchettamento Cioè io apro 20 bustine Da 25.000 Con Il costo Tots Sopra Non mi esce niente Ma perché Non giustevano i Tots Cru Ma guardali quanti doppioni Ma prima c'erano i Tots C'era Cristiano Ronaldo C'era Cristiano Ronaldo C'era Messi Qua mi usciva Non mi esce più niente Ah perché non è collegato a Lea Ok ragazzi Adesso si è connesso anche ai serverrea Quindi guardate i Tots Chi sono Hazard Messi Ronaldo Pogba Uno di questi Uno di questi Ti prego Uno di questi Tranne Pogba Ma ci esce proprio Pogba E io me ne volto la coppa Abbiamo aperto già Quanti pacchetti abbiamo Aperto Una bizzeffa Ne abbiamo altri 4 Ne abbiamo aperto 16 No ti ricordi con Flappy Bird Bevi la pozione Funziona Proviamo È la pozione magica Scusate ragazzi Proviamo Ma ti ricordi con Flappy Bird Ma ti ricordi con Flappy Bird Chi è Carrollo Vuoi aprire a me Hai fatto no Un solo Tots In 20 pacchetti Uno solo Rodrigo Taddei Rodrigo Taddei Ma chi è Rodrigo Kikaki Di nuovo Fazio Lo schifo Cicarito Hernandez Cicarito Hernandez E ma non vale niente Non vale niente Ronaldinho No non è il punto A 80 A 53 velocità Però Ronaldinho Non era pronto Eh se mi usciva L'ho buttato nel club Se mi usciva In FIFA 12 Era forte Ok avevo risultato Però Ma questo è stupido Niente Sono finiti tutti i pacchetti Ragazzi E questo era ragazzi Purtroppo Cacca anche stavolta Ci uscirà mai Un giocatore buono Youtube Italia Tutti quanti che prendono Ronaldo Tots Messi Tots Aguero Tots E noi non prendiamo Ma che stavolta Noi non prendiamo Manco il cavolo Il primo spacchettamento Abbiamo trovato Quattro Tots Non so nemmeno io come Secondo me I pacchetti da 35.000 Funzionano di più Sono più buoni E dobbiamo aprire Dobbiamo comprare Solo quelli 20.000 25.000 Abbiamo aperto 20 Niente Consigliateci voi ragazzi Quali sono i pacchetti migliori Voi cosa avete trovato Ce lo scrivete nei commenti Come sempre Se lo spacchettamento Vi è piaciuto Cliccate un bell Mi piace Iscrivetevi alla pagina Facebook Amendo la Brothers Trovate il link in descrizione Condividete questo video Su Facebook Twitter Google Plus Ovunque voi vogliate E se per caso Può capitare Che il gameplay Non vi è piaciuto Può capitare Perché appunto Non ci è uscito un cavolo E per caso Il gameplay Non vi è piaciuto Da parte di Di te Come si chiamava Telo Da parte di Tello Che ci è uscito 50 volte Grazie ragazzi Da Jonathan Amentola Di Amentola Brothers Al prossimo video Ciao Ciao